Gino Cantò, sindaco di Cepagatti, la provincia ieri ha chiuso il ponte sul fiume Nora, questo è un grave problema per il comune di Cepagatti, però la stessa provincia non poco più di sei mesi fa aveva limitato il traffico ai mezzi pesanti, questo non è andato bene perché il ponte è evidente che ha dei problemi strutturali. Sì, questo è un enorme danno per il paese, per tutti gli abitanti e per le attività commerciali, il mio rammarico è quello che in sette mesi purtroppo non hanno fatto niente, questo crea un enorme danno alle attività commerciali della zona, faremo di tutto per farli cominciare subito, già abbiamo fatto la richiesta alla provincia che devono mettere i fondi disponibili, parlano di 700 mila euro, quindi non sono milioni di euro, quindi sicuramente l'importo è attendibile e i lavori possono essere immediatamente iniziati. Ci hanno chiesto una viabilità alternativa, però la viabilità alternativa sulla zona Ciarra noi l'abbiamo consentito, abbiamo consentito questa viabilità alternativa a tutti i residenti, ai mezzi di soccorso, agli autobus, però per il momento non ci sentiamo di aprire a tutti perché anche lì c'è un ponte sul fiume che però non è fatto in cemento armato, ma bensì in travi per cui dovremmo vedere se la stabilità per consentire anche a tutti i mezzi di passare lì sia consentito. Ringrazio anche i tecnici che hanno monitorato per vedere la gravità del ponte, i tecnici sono stati a questo punto tempestivi chiudendo il ponte e come diciamo, grazie a Dio non è successo niente ai fini di una tragedia che poteva avvenire.